Ciao a tutti da Vittorio, oggi in questo video voglio parlare di una statistica secondo me molto interessante che ovviamente riguarda l'Avazio. Ciao a tutti da Vittorio, oggi in questo video voglio parlarvi di una statistica importante, secondo me molto curiosa, che riguarda l'Avazio. Però prima mi raccomando se sei un tifoso da Lazio iscriviti al canale perché ogni giorno caricherò almeno un nuovo video sulla SS Lazio, quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che ti arriverà una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Bene, spulciando fra le statistiche ho trovato una che è secondo me molto molto interessante e che non avevo visto in passato. Bene, sapete qual è la combinazione marcatore-assist di questa stagione della Serie A? Qual è la coppia che ha fatto più combinazione assist, marcatore e gol? Bene, magari voi penserete qualcun altro, ma in realtà la coppia numero uno è Milinkoi Savic-assist per Ciro Immobile. Quest'anno è già successo quattro volte ed è qualcosa che magari uno non avrebbe mai pensato, visto che Milinkoi Savic quest'anno sta giocando un ruolo un po' più arretrato e di solito l'assistman era Luis Alberto. Bene, invece è questa la coppia numero uno, seguita da Ronaldo servito da Morata anche loro a quattro gol e poi Mertens che fa l'assist all'Ozzano. Quindi Lazio, Juventus, Napoli hanno questo duo a quattro gol. Bene, sapete chi è poi in seconda posizione? Adam Marusic per Ciro Immobile. Adam Marusic che molti di voi criticano, quest'anno io l'ho detto sta facendo una stagione molto molto positiva e beh quest'anno ha già regalato tre assist a Ciro Immobile. E quindi la Lazio si ritrova con la coppia numero uno, Milinkoi Savic e Immobile che ripeto può essere prevedibile se pensiamo a Lazio-Cagliari, l'hanno decisa loro due. Pallone lungo in area di rigore di Acerbi, assist di testa di Milinkoi Savic e gol di Ciro Immobile. L'altra coppia che magari uno non pensa tanto è quella Marusic-Ciro Immobile. Io ho detto gli esterni nel 3-5-2 sono fondamentali, abbiamo visto la crescita esponenziale di Adam Marusic che anche sulla sinistra, quindi sul suo piede sbagliato, visto che lui è destro, riesce a fare assist ed essere un giocatore molto molto importante. Soprattutto perché dai suoi piedi sono nati tre gol di Ciro Immobile, mentre dai piedi di Milinkoi Savic, che insomma ce lo potevamo aspettare tutti, sono arrivati quattro gol di Ciro Immobile. E questa è una statistica importante perché vi conferma come la Lazio abbia degli schemi, no? Milinkoi Savic bravissimo a pescare Ciro Immobile, spesso in profondità con l'agio profondo, contro Cagliari invece di testa, assist in area. E poi Adam Marusic che arriva sul fondo e mette al centro e riesce a pescare Ciro Immobile, anche se Ciro non è fortissimo di testa, ma trova altri modi per andare a segnare. Ecco, facendo un passo indietro, andiamo a vedere questa statistica dello scorso anno. Beh, lo scorso anno lo sapevamo, no? Luis Alberto è stato incredibile negli assist, infatti la combinazione assist-marcatore della stagione 2019 è stato Luis Alberto assist per Ciro Immobile. Questa combinazione si è ripetuta ben sei volte lo scorso anno. La cosa fantastica è che la seconda coppia dell'anno, dello scorso anno, era assist di Immobile per gol di Correa. E questo è un po' particolare, visto che, insomma, Ciro Immobile è stato il capocannoniere, ma anche fondamentale negli assist, visto che Correa, grazie a Ciro, ha segnato quattro gol. La cosa che deve farvi capire che stagione fantastica è stata della Lazio quella dello scorso anno è che la terza coppia, combinazione assist-marcatore, è ancora una volta la Lazio. Questa volta è ancora Luis Alberto e il marcatore è il Tuku Correa. Quattro gol da questa combinazione Alberto-Correa, come quattro gol dalla combinazione Immobile-Correa. Quindi Correa che beneficia degli assist di Immobile e Luis Alberto per segnare otto gol, mentre Ciro Immobile è stato servito sei volte da Luis Alberto per andare a segnare sei gol. Ecco, queste sono statistiche importanti che vi fanno capire come le coppie in casa Lazio funzionano e come Luis Alberto lo scorso anno ha fornito dieci assist, quest'anno è ancora a quota zero, ma nonostante questo la Lazio ha trovato altri modi per andare in gol. Marusic, che è un po' la sorpresa, e Minko Isavic, che non è una sorpresa perché conferma il suo talento. Questo per dirvi come alla fine la Lazio riesce sempre a esprimere un gioco interessante, a trovare vie alternative per segnare. Quando non funziona Luis Alberto, vedete, sale in carta tra Minko Isavic e poi gli esterni. Quindi Marusic che ha fornito già tre assist per Ciro Immobile e poi sappiamo Lazzari che nel derby e anche contro il Parma ha fornito assist importanti per Ciro Immobile per trovare la via della rete. Quindi questa è una statistica secondo me molto interessante da dirvi. Speriamo che si ripeta ovviamente contro l'Inter perché sarebbe fondamentale vincere anche contro i Nerazzurri. E voi che ne dite? Scrivetevi nei commenti qua sotto. Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!